ciao a tutti ragazzi sempre dal nostro laboratorio oggi riparazione su sinto amplificatore denon esattamente il modello rcd n9 come si può vedere dall'etichetta posteriore allora ovviamente abbiamo le uscite audio di potenza ho dato un'occhiata un attimo a quello che può fare quindi oltre al lettore cd anche la porta usb per un aux diciamo un ingresso appunto con una chiavetta un drive usb ma anche il bluetooth anche la porta lan quindi è possibile connetterlo in rete quindi ha un bel po di funzioni è un bellissimo apparecchio poi ovviamente stiamo parlando di un ottimo brand denon sul professionale comunque diciamo un'ottima qualità audio allora il problema che ci lamenta il cliente e il lettore cd quindi inseriamo elettore cd non viene letto assolutamente noi abbiamo già ordinato la meccanica originale e quindi adesso la sostituiremo quindi intanto colleghiamo un attimino e facciamo la prova io ho già inserito all'interno un cd originale per fare il test del funzionamento quindi lo accendiamo quindi cavo di alimentazione e gli diamo tensione e vi faccio vedere che lui tenta la lettura ma non fa niente quindi lo possiamo accendere a breve si accenderà quindi il nostro display ecco qua l'è acceso quindi ovviamente fa il boot iniziale allora il cd all'interno è presente quindi ho messo anche un cd originale perché certe volte è ovvio che tra cd originali cd masterizzati potrebbe esserci una differenza ma soprattutto se la lente è usurata ma in questo caso anche il cd originale non lo legge quindi completamente k o anche vedo che il tasto forse necessario che un attimino accompagnato ok lettura e rimane bloccato qui all'interno voi non riuscite a sentirlo ma io sento la lente che a girare il cd quindi inizia la rotazione e poi si blocca poi tenta nuovamente e poi si blocca poi tenta ancora e si blocca quindi uno da fare probabilmente è appunto la lente e come potete vedere dal ricambio viene venduto ovviamente l'intero gruppo ottico quindi noi sostituiremo tutto il la parte meccanica e comprende anche la lente qui sotto questo ovviamente una plastica di protezione che va rimossa dopo anzi posso già farvela vedere ecco qua qui c'è l'ottica la lente quindi già calibrata e quindi va semplicemente sostituita e torna a funzionare perfettamente quindi provvediamo a smontare l'intero lettore qui ovviamente è ancora in lettura quindi smontiamo tutto il lettore sostituirà valente e vediamo se torna a funzionare correttamente ovviamente in uscita dopo ci colleghiamo anche delle casse vamos in uscita Grazie a tutti. 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 Qui abbiamo tutta la circuiteria che si occupa appunto del, penso sia sempre del lettore, perché comunque essendo sempre vicino alla parte del lettore cd, qui abbiamo la parte di alimentazione, lo stadio finale audio, quindi qui abbiamo anche la parte wifi e bluetooth, quindi grazie a questa scheda lui si connette in bluetooth. Niente, questo qua è il lettore completamente smontato. Montiamo la parte ottica e poi rimontiamo tutto quanto. Ok, allora, vediamo un attimino anche come, in base al ricambio che ci è stato dato, penso sia veramente molto, ma molto, ma molto semplice, niente di che. Anche perché qui abbiamo l'ottica che si aggancia alla parte sua, meccanica con cui già viene fornita e quindi mi basta semplicemente forse smontare le quattro viti con i distanziali a molla. Proviamo, vediamo un attimino se è soltanto questo, uno, gli distanziali che ovviamente dobbiamo riportare sull'altra meccanica perché non sono presenti, quindi anche il cavo flat, uno e due, vanno ovviamente riportati sull'altra meccanica. Ok, perfetto. Sì, semplicemente questo. Come vedete, questa è l'ottica originale, la vecchia ottica, questa è l'altra ottica nuova, ovviamente originale, dove dobbiamo togliere adesso la copertura della lente. Quindi procediamo subito alla sostituzione, quindi ripristiamo prima i quattro distanziali, così non dimentichiamo di inserire, perché sono fondamentali soprattutto per le vibrazioni, tant'è che sono in gomma, in più hanno le molle con cui vengono poi fissate alla parte meccanica. Quindi qui abbiamo, primo, ok, ok. Quindi tolgo per ultimo la copertura della lente proprio per evitare che possa sporcarsi oppure possa sbagliare qualche passaggio e danneggiarla, quindi rimane l'ultima cosa da fare. Quindi adesso ci sono i due cavetti che collegano appunto la meccanica alla scheda madre, questo è uno, questo è l'altro. Perfetto, ok. Allora, non ci resta che adesso montare la nuova meccanica sulla parte dove c'è il carrello, quindi questa era montata in questa maniera. Giusto? Sì, ok. Perché c'è questo che va là, ok. Quindi togliamo la copertura della lente e possiamo rimetterla a posto. Ok, allora. Per il momento chiudiamolo giusto per effettuare una prova, poi dopo non so se effettivamente va calibrato o va fatto qualcos'altro. A noi ci è stato detto che va esclusivamente montata e funziona. Quindi di solito su molte ottiche viene eseguita comunque una piccola calibrazione, però su questa ci hanno detto che non era necessario, quindi a questo punto non eseguiamo nulla. La montiamo direttamente senza ovviamente chiudere tutto il lettore. Facciamo una prova con un lettore parzialmente chiuso, giusto con tutti i cavi connessi e ovviamente il cd all'interno, che io prima ovviamente ho estratto. E niente, vediamo se funziona. Ok, controlliamo che tutte le viti siano ben strette, tutte e quattro, perfetto, ok. Ok, meccanica completata, ovviamente è stata chiusa perfettamente. Niente, montiamo tutto nello chassis originale e niente, vediamo se funziona. Allora, per prima cosa colleghiamo il flat, questa è la parte frontale, sì. Allora, qui abbiamo i due cavetti, quindi uno e due, sono forse probabilmente l'alimentazione del lettore, dei due motorini. Ok, e qui abbiamo il flat, c'è lo scambio dati, quindi mettiamo anche questo. Vogliamo sempre essere delicati su questi apparecchi perché comunque sono flat molto ma molto fragili e non tutti hanno lo stesso metodo per blocco e sblocco. Quindi c'è qualcuno che ha la levetta che va alzata, qualcun altro che come questo non ha nessuna levetta, va direttamente inserito all'interno. Quindi mettiamo giusto due viti diagonali per fare una prova. Quindi non sono tutti uguali, però ovviamente per esperienza basta guardarli per capire esattamente quale modello è. Allora, montiamo la parte superiore perché ha il flat con i tasti funzione e vediamo se è tornato a funzionare. Allora, vediamo il cavo flat che è qui, non so se si riesce a vedere dalla camera, quindi inseriamolo. Anche questo non ha una linguetta per poi chiudere la parte dove viene agganciato, quindi va semplicemente ad incastro. Quindi poggiamo un attimino la parte superiore. Ovviamente solo per fare una prova, quindi giusto almeno per renderci conto se funziona o meno. Allora, alimentazione, quindi possiamo accendere il nostro lettore. Ok. Perfetto. Per acceso. Inseriamo il nostro cd originale. Ok. Vediamo se funziona. Lettura. Sento il cd che sta girando. Ottimo! Ecco qua. Lettura traccia 1, quindi sta funzionando. Perfetto. Allora, volevo un attimino collegare anche una cassa sull'uscita audio per ascoltare se abbiamo l'audio in uscita. Però per fare questo devo girare l'apparecchio. Quindi, eccolo qua. Quindi abbassiamo un po' tutto il volume. Facciamolo giusto così a volume 2. E vediamo se abbiamo l'uscita audio. Quindi, per fare una prova, abbiamo giusto un... Ecco qua, funziona. Sì, sì, si sente. Alzo il volume. Si sente? Perfetto. Ok. Si sente, si sente. Lo vedo dalle barre del microfono, perché a volte col microfono in registrazione non riuscite a sentire, perché sotto un tot di DB lui manda in muto per evitare disturbi e ronzii. Allora, alziamo ancora un po' il volume. Cambiamo traccia, cambiamo traccia, quindi con le freccette qui. Partita d'altra. Perfetto. Ok. Questo è il primo canale e vediamo anche l'altro, già che ci siamo. Tanto non ci costa nulla. 1 e 2. Ecco qua, funziona la grande anche questo. Perfetto. Ok, ok. Allora, possiamo rimontare tutto il lettore, quindi al completo. E niente, possiamo dichiarare riparazione riuscita anche in questo caso. Quindi spegniamo il lettore. E ci siamo. Ci siamo, quindi non ci resta adesso che chiudere il lettore Denon al nostro cliente. Ovviamente super soddisfatto della riparazione eseguita. Per quanto riguarda la meccanica, il problema è che non tira indietro il lettore a necessità del tocco. Mi sono accorto prima durante il montaggio che probabilmente c'è una cinghia un po' allentata. Basterà sostituire quella e il problema si risolve. Perché ovviamente quando io premo il tasto per far rientrare il disco, lui ovviamente deve farlo rientrare in automatico. Non necessariamente l'utente deve spingerlo. Quindi ovviamente non è una cosa normale, ma ci può stare nell'usura dell'apparecchio. Perfetto. Anche questo prodotto è stato riparato. Grazie a tutti per la visione. Ve lo ricordo sempre, per chi vuole può mettere, più che il mi piace in realtà, può iscriversi sul nostro canale YouTube oppure per chi ha bisogno può contattarci sul nostro sito web www.disotechlab.it C'è un form da compilare oppure anche tramite WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Grazie a tutti, alla prossima riparazione. Ciao!